Ciao, benvenuti in questo video dove ho deciso di recensire un libro. Sì, un libro che ha fatto la differenza nella mia attività professionale e che credo sia importante condividere con te. Ogni mese condivido recensioni di eventi che seguo oppure libri che leggo. Questo perché credo che sia importante anche condividere con altri professionisti imprenditori come me gli strumenti che mi permettono di crescere, di evolvermi e di cambiare la mia vita. Il libro che ti voglio parlare è questo qua, di Simon Sinek. Te l'ho detto perché. Me l'ha consigliato un amico, che è un dentista, un imprenditore nel settore del benessere, dicendomi, Anto, guarda, questo libro ti farà la differenza perché ti permetterà di connetterti con quello che è più profondo di te e creerà ancora di più attrazione con i tuoi clienti. Ed è vero. Avevo già letto libri di questo tipo, dove ti fanno fare un lavoro personale, interiore, ma non ho mai visto un aspetto di questo genere, che è il perché, il perché di ogni impersona, che è la motivazione che ti spinge ad arrivare oltre. Come esempio il mio perché è quello di migliorare la qualità di vita delle persone perché in questo modo potranno vivere in maniera più serena e avrò contribuito al mondo per creare persone che sono più sorridenti. Bene, trova il tuo perché, non voglio raccontarti quello che c'è scritto dentro perché voglio darti il modo di poterlo leggere, è un libro ben scritto dal mio punto di vista con tanti esempi e soprattutto molto pratico perché l'esercizio che farai puoi anche seguirlo sul libro compilando i moduli che lui ti mette all'interno o le domande che ti mette all'interno. Il bello di questo libro è che ti fa fare un lavoro personale che puoi fare da solo, lo puoi fare con un'altra persona, lo puoi fare con il tuo team, e quindi se tu hai un team di persone lo puoi sviluppare con il tuo team, è veramente utile perché in base agli vari aspetti, se sei da solo in un team, può essere utile. Quindi io te lo consiglio, ti consiglio di leggerlo, lo puoi trovare su Amazon o lo puoi trovare anche in libreria, io lo comprai non mi ricordo dove, mi sembra vero in libreria, però è interessante, è molto interessante poterlo avere. Quindi ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, se vuoi sapere di più su quello che leggo, quello che faccio, ti consiglio di andare su www.l'accademielprofessionista.it, quel luogo dove entri in contatto con me, potrai vivere un'esperienza di una video lezione regalo che ho messo all'interno, e poi chi lo sa, magari diventerai uno strumento d'accademia, oppure magari attraverso tutti i strumenti social, quando faccio una diretta potrai intervenire e dirmi sai Anto, grazie al libro che mi hai detto, l'ho letto e ha fatto veramente la differenza. Quindi ti auguro una straordinaria giornata e a presto. Ciao! 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 Ciao!